Kate, duchessa di Cambridge, ha un titolo reale che ha ricevuto quando ha sposato il principe William nel 2011 che ancora non usa mai, seguendo un modello reale stabilito, alla duchessa Kate è stato anche conferito il titolo di principessa William lo stesso nome di suo marito quando la coppia si è sposata. Resta inteso che la madre di tre figli potrebbe anche usare tecnicamente la principessa William, simile al titolo del cugino della regina, la principessa Michael di Kent, il vero nome della principessa Michael di Kent e Marie Christine Anna Agnes e Edvi Ghida von Rebienitz. Ma ha assunto il suo nuovo nome dopo aver sposato il principe Michael. Kate ha una serie di titoli reali tra cui sua altezza reale, la contessa di Stratorn e Lady Carricferbus. Ma non sarà mai conosciuta come la principessa Kate, come la principessa Beatrice e la principessa Eugenia perché non è di sangue reale. Kate assumerà anche un nuovo titolo quando il principe Carlo salirà al trono. Il principe William diventerà il principe di Galles e la duchessa, la principessa del Galles. Parlando in un episodio di Royally US, i conduttori. Cristina Ross e Cristina Garibaldi hanno discusso dei titoli reali in sospeso dell'attuale duca e duchessa di Cambridge, la signora Garibaldi, leggendo ciò che ha scritto Daniel Wallace, ha detto, la visita di William e Kate nel Cambridge Shire è sembrata un addio. Quasi come il loro tempo, come lo vedi, mentre il duca e la duchessa di Cambridge stanno volgendo al termine. E, il loro tempo come principe e principessa del Galles sta per iniziare. Nel frattempo, il titolo nobiliare di Cambridge dovrebbe cadere in disuso e essere riassorbito dalla corona quando William sarà re. Il precedente esperto costituzionale Iain McMartin ha dichiarato a Express.co.uk, quando il principe Carlo diventerà re, il principe William come suo figlio maggiore ed erede maschio diventerà automaticamente duca di Cornovaglia in Inghilterra e duca di Rotes e in Scozia, oltre ad essere duca di Cambridge come è attualmente. Quando William diventerà re, il ducato di Cambridge sarà assorbito dalla corona e al principe George piacerà suo padre prima che diventi automaticamente duca di Cornovaglia e Rotesi. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.